E' di pochi giorni la notizia che su sollecitazione appunto del mondo, delle associazioni e della comunità i nostri consiglieri regionali di area ionica in rappresentanza di tutti i partiti politici hanno sottoscritto un documento e questa è la grande novità che chiede con insistenza la riapertura ai voli passeggeri dell'aeroporto Arlotta di Taranto Grottaglie questo significa che noi tutti abbiamo la possibilità di cominciare un nuovo cammino che troverà poi spazio, non a caso stamattina abbiamo invitato i candidati sindaci alle prossime elezioni comunali di Taranto e alle rappresentanze amministrative dei comuni di San Giorgio, Montegliasi e Grottaglie l'idea è quella di contribuire appunto come comunità ionica a che non solo la provincia ionica ma tutto l'arco ionico possa usufruire di una straordinaria infrastruttura che viene oggettivamente sotto utilizzata e siccome come dimostrano anche il recentissimo progetto pluriennale dei croceristi a Taranto il turismo sta diventando una risorsa che va valorizzata e ovviamente la presenza di un aeroporto garantirebbe un'interlocuzione a livello più che nazionale soprattutto internazionale consentendo anche ad alcuni paesi europei che attualmente non godono di adeguate linee aeree di poterne usufruire su una pista che è tra le più lunghe d'Italia dunque credo che ci siano tutte le condizioni per che ciò possa essere realizzato con beneficio di tutti Noi pensiamo che il nostro territorio debba ripartire con una nuova economia con un nuovo sviluppo sostenibile cioè sottrarsi all'imperio dell'industria altamente inquinante e quindi è necessario valorizzare tutto ciò che noi abbiamo partendo dalle grandi infrastrutture che sono porta aeroporto come comitato per aeroporto ci battiamo da anni per la riapertura la riattivazione a 360 gradi dell'aeroporto di Taranto Grottale perché ricordiamoci che non si chiama aeroporto di Grottale su tutte le carte anche internazionali è indicato come aeroporto di Taranto che la regione Puglia con la società che gestisce i quattro aeroporti pugliesi cioè aeroporti di Puglia vuole invece tenere chiuso ai voli passeggeri di linea perché ne ha fatto praticamente un polo industriale un'anomalia che non esiste in nessuna parte del mondo noi assistiamo a un trend in crescita, in forte crescita dei passeggeri negli aeroporti quelli aperti ai voli appunto di linea che sono Bari e Brindisi soltanto, entrambi sull'Adriatico e non possiamo invece usufruire dei benefici che questo porta ai territori sia come occupazione anche perché uno sviluppo occupazionale è possibile se l'aeroporto è aperto appunto a 360 gradi quindi voli passeggeri di linea e tutto ciò che comporta voli cargo, voli charter, cioè porta tutto dietro il volo passeggeri di linea e poi anche come indotto di un aeroporto per cui dobbiamo assolutamente far sì che il nostro aeroporto venga in questo diciamo sottratto fra virgolette ad una gestione che ci vuole invece tenere ancora schiavi noi tarantini e lontani appunto da un nuovo tipo di sviluppo a una riconversione economica e quant'altro grazie a tutti grazie a tutti